La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato un contributo di oltre 140.000 euro percepito indebitamente per lavori di messa in sicurezza e manutenzione degli impianti sciistici del Fraespian del Mesdi mai eseguiti. L'operazione denominata Neve al Sole ha permesso di scoprire che il contributo di 140.000 euro finalizzato al mantenimento della sicurezza e alla riqualificazione degli impianti sciistici era stato richiesto alla Regione Piemonte e ottenuto grazie alla presentazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per lavori mai eseguiti. Nel corso delle indagini i finanzieri della compagnia di Susa hanno notato nella contabilità della società di gestione una fattura emessa nel 2018 e recante come oggetto svariate prestazioni rese per la revisione della vita tecnica della sciovia Piammesdi che non poteva aver eseguito la società emittente perché priva delle necessarie competenze e dei mezzi adeguati. Il documento fiscale era legato alla domanda presentata dall'impresa alla Regione Piemonte per l'assegnazione del contributo. Il gestore degli impianti sciistico ha emesso a sua volta nei confronti della società emittente una fattura di pari importo. I lavori erano stati eseguiti solo parzialmente per rendere comunque sicura la sciovia ma per importi nettamente inferiori e in parte in economia.